salve a tutti e benvenuti sul canale creare con su test in questo video tutorial andremo a realizzare un cardigan magliettina da neonati qui abbiamo un classico modello ideale sia da femminuccia che da maschietto molto molto semplice con un classico legaccio e classica maglia rasata diritta quindi ideale anche per i principianti non ha nulla di difficoltoso abbiamo realizzato lo scollo anatomico con lo scollatura più profonda davanti per ottima vestibilità per realizzare la magliettina ho utilizzato dei bottoncini il ferro numero 3 per apio maglia e seguire il collo dopodiché ho proseguito tutto il lavoro con il ferro numero 3 e mezzo io ci lavoro con il ferro circolare ma potete realizzare la maglietta con classico ferro lineare senza alcuna difficoltà ho utilizzato tre comitoli di questo filato dmc baby cotton e un filato 100% cotone progettato prettamente per i bambini molto molto morbido ideale per le mezze stagioni o magari per le fresche sere d'estate un ottimo filato vi ricordo come sempre che il filato lo potete acquistare nella nostra merceria sud est giù nell'info box troverete il link della merceria troverete anche il link del nostro gruppo facebook e creare con sud est dove potete iscrivervi e condividere tutti i vostri lavori con noi ecco vedete il filato è molto molto morbido ideale soprattutto per la primavera autunno e anche per l'estate ho utilizzato tre gomitoli per questa taglia che è un sei mesi questo è ciò che mi è avanzato del terzo gomitolo quindi se vorreste fare almeno un centimetro più lunga non ce la fareste più detto ciò vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e non dimenticate di cliccare su sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i tutorial in uscita adesso passiamo al tutorial andiamo a prendere il filato il ferro del numero 3 io lavoro con il ferro circolare ma potete realizzare con qualsiasi ferro lineare e andiamo a fare un avvio di 69 macchie avvio vado a realizzare a doppio ferro in questo modo avvio risulta più morbido e più elastico giù nell'info box potete trovare il tutorial dettagliato dell'avvio quindi vado a montare 69 maglie e vado a realizzare i primi quattro o sei ferri a legaccio lavorando le maglie tutte le maglie a diritto sia il ferro di andata che il ferro di ritorno abbiamo lavorato il legaccio per sei ferri in altezza totale con il ferro del numero 3 adesso andiamo a distribuire tutti i nostri segnapunti e dunque andiamo a parlare di ciò che dobbiamo ottenere attualmente noi abbiamo un avvio di 69 maglie 69 maglie di avvio andiamo a vedere un attimino la mia attenzione di con questo filato e con il ferro numero 3 mezzo che sarà il ferro principale per questo lavoro sono 24 maglie in 10 centimetri avvio collo che abbiamo realizzato di 69 maglie sono 28 centimetri circa perché si è ristretto leggermente perché abbiamo lavorato con il ferro più piccolino ora 69 maglie andiamo a distribuire tutti in modo seguente abbiamo le prime sei maglie e le ultime sei maglie che saranno per il bordino per la chiusura maglio e saranno il bordino a legaccio con dei bottoncini e le asole e qui andiamo a mettere i nostri segnapunti per il bordino a legaccio io vado a mettere un filo in contrasto per poter capire che sono le maglie per il bordino quindi sei maglie inizio ferro sei maglie compreso la maglia di divagno sei maglie anche alla fine del ferro rimangono sei maglie le prossime maglie sono le 8 maglie più 8 maglie per ciascun davanti e li andiamo a contare subito dopo il filo di contrasto 1 2 3 4 e mettiamo il primo segnapunto così facciamo anche dall'altro lato del ferro alla fine quindi dopo il filo di contrasto 1 2 3 4 8 maglie mettiamo di nuovo il segnapunto e questo sarà il nostro davanti del lavoro il davanti destro e sinistro dopodiché lasciamo 9 maglie per le spalle e sono tra un segnapunto e l'altro li andiamo a contare dal segnapunto giallo quindi 1 2 3 4 e una maglia sono 9 così anche qui 1 2 3 4 una maglia sono 9 li mettiamo di nuovo i segnapunti al centro che sarà il nostro dietro sono rimaste 23 maglie se dovete cambiare le taglie dovete andare a aumentare per ogni lato per esempio una misura in più andate a aumentare una maglia una maglia due maglie una maglia e una maglia per la misura più grande in totale 1 2 3 4 6 maglie in totale e così anche se dovete diminuire quindi la andiamo a diminuire da qui detto ciò adesso passiamo alla realizzazione della nostra linea reglan e quindi anche degli aumenti tutti i ferri dispari saranno lavorate tutte le maglie sempre e solo a diritto quindi ogni maglia sul nostro ferro invece i ferri dispari poi i ferri pari poi vediamo vado a cambiare il ferro dal numero 3 passo al numero 3 e mezzo e vado a lavorare in modo seguente la prima maglia è sempre la maglia di vivagno io non la lavoro mai nei lavori che necessitano di una rifinitura quindi passo la maglia da un ferro all'altro senza lavorarla così passo senza lavorarla qui dobbiamo realizzare anche l'asola per il bottoncino per il maschietto la realizziamo all'inizio del ferro per la femminuccia alla fine del ferro lavoro una, due maglie a diritto dopo di che la gettata e due maglie insieme a diritto l'ultima maglia a diritto questo sarà il nostro bordino passo il filo di contrasto da un ferro all'altro e continuo a lavorare tutte le maglie a diritto come ho detto in precedenza tutti i ferri dispari saranno lavorate tutte le maglie a diritto e attualmente ci troviamo sul primo ferro che è il ferro di andata ed è il ferro dispari e in ogni ferro dispari andiamo a realizzare degli aumenti gli aumenti saranno fatti in modo seguente arriviamo una maglia prima del segnapunto il primo segnapunto e andiamo a fare l'aumento per realizzare l'aumento il filo incrociato su se stesso in questo modo e quindi lo vado a mettere sul ferro destro stringo per bene continuo a lavorare una maglia passo il segnapunto da un ferro all'altro e lavoro una maglia subito dopo il segnapunto qui di nuovo vado a creare un aumento il filo incrociato su se stesso lo metto sul ferro destro e lo stringo per bene continuo a lavorare tutte le maglie a diritto fino al prossimo segnapunto che rimanga una maglia prima del segnapunto rimane una maglia e andiamo a creare l'aumento quindi il filo incrociato su se stesso lo mettiamo sul ferro lo stringiamo per bene lavoriamo la maglia prima del segnapunto quindi si passa il segnapunto da un ferro all'altro si lavora una maglia dopodiché andiamo a fare un aumento gli aumenti saranno fatti esattamente nello stesso modo per tutti i ferri dispari vicino ogni segnapunto che abbiamo sul ferro quindi una maglia subito prima del segnapunto una maglia prima del segnapunto facciamo l'aumento una maglia dopo il segnapunto e facciamo l'aumento quindi vado a lavorare tutte le maglie fino al prossimo segnapunto le maglie a diritto arrivati al prossimo segnapunto l'aumento una maglia prima del segnapunto quindi la maglia passiamo il segnapunto da un ferro all'altro lavoriamo la maglia seguente e andiamo di nuovo a fare l'aumento continuiamo così anche con il prossimo segnapunto e andiamo a lavorare tutte le maglie fino alla fine di tutto il ferro siamo arrivati al bordino qui vi ricordo chi va a realizzare la magliettina per la femminuccia dovete realizzare l'asola alla fine del ferro quindi lavorerete la prima e la seconda maglia dopo di che farete la gettata due maglie insieme a diritto e andate a proseguire fino alla fine del ferro io invece la maglietta la realizzo per maschietto e ho realizzato l'asola all'inizio del ferro quindi qui vado a sciogliere la mia asola arrivati alla fine del ferro la maglia di vivagna viene lavorata sempre e solo a rovescio a fine ferro quindi il ferro piccolino lo posso andare a eliminare non mi occorre più e adesso vado a lavorare soltanto con il ferro del numero 3,5 giro il lavoro la prima maglia che è la maglia di vivagna passo da un ferro all'altro senza lavorarla qui ricordiamo che il bordino della magliettina viene realizzato sempre ad elastico quindi tutte le maglie le sei maglie prima del nostro filo di contrasto e alla fine del ferro saranno lavorate sempre e solo a diritto su ogni ferro sia andata che ritorno dopo di che passiamo il filo di contrasto e qui andiamo a lavorare le maglie a rovescio vi ricordo che ci troviamo sul ferro pari quindi il ferro di ritorno sul ferro di ritorno andremo a lavorare le prime sei maglie a diritto le successive maglie fino al nostro segnapunto il primo segnapunto saranno lavorate a rovescio compreso la maglia che abbiamo aumentato passato il segnapunto da un ferro all'altro adesso ci troviamo sulla manica della maglietta e qui vado a lavorare tutte le maglie a legaccio quindi a diritto per ottenere l'effetto delle maniche a legaccio soltanto le maniche a legaccio invece davanti e dietro saranno lavorate a maglia rasata diritta anche l'aumento che abbiamo creato si lavorerà a diritto per ottenere il legaccio arrivati al prossimo segnapunto i segnapunti li ho messi appositamente di colori diversi quindi tra il segnapunto giallo e arancione saranno lavorate le maglie sempre e solo a diritto su ogni ferro per ottenere punto a legaccio sia qui che qui che saranno le nostre maniche invece tra i segnapunti arancioni quindi i segnapunti centrali saranno lavorate tutte le maglie a rovescio sul ritorno del lavoro sul ferro pari per ottenere la maglia rasata diritta le maglie invece tra il segnapunto giallo e il filo contrassegnato saranno lavorati a rovescio sul rovescio del lavoro per ottenere sempre la maglia rasata diritta quindi qui e all'inizio ferro qui il bordino della maglietta a legaccio quindi dunque non è nulla di particolare importante prestare attenzione e magari mettere i segnapunti di colori diversi per non sbagliare vi ricordo che bisogna fare degli aumenti gli aumenti saranno realizzati vicino ogni segnapunto soltanto sul ferro di andata quindi il 1, 3, 5 e così via i ferri dispari l'aumento viene fatto un punto prima del segnapunto e un punto dopo il segnapunto e così per tutti i segnapunti che ci troviamo sul ferro le asole saranno ripetute circa ogni 5-6 cm distanza tra una e l'altra lavoriamo le maglie sul ritorno del ferro tra il filo contrassegnato e il primo segnapunto giallo tra i segnapunti arancioni e qui di nuovo tra giallo e il rosso andiamo a lavorare a rovescio invece i primi 6 punti i punti tra il giallo e arancione di nuovo tra giallo e arancione e gli ultimi 6 punti saranno lavorati a diritto per ottenere il punto legaccio andiamo a lavorare per tutta l'altezza proseguita la lavorazione con dei aumenti e questo è il risultato che abbiamo ottenuto qui abbiamo il bordino a legaccio le maniche a legaccio l'altro bordino a legaccio invece il davanti destro davanti sinistro e la schiena sono a maglia rasata diritta lavorato in tutto dopo il legaccio del collo sono 10 cm in altezza compreso al collo invece sono 11 cm e mezzo diciamo quindi adesso dobbiamo andare a mettere le nostre maglie un pochino in sospeso prendo un ago da lana e vado a inserire un filo di contrasto quindi vado a togliere tutte le maglie che mi trovo sul ferro inizio ferro io ormai ho eliminato i segnapunti perché non mi occorrevano più quindi vado a togliere tutte le maglie fino al primo segnapunto se ancora avete i segnapunti o altrimenti fino all'ultima maglia rasata diritta quindi fino a qui vado a togliere tutte le maglie li passo dal ferro ad ago qui abbiamo l'ultima maglia diritta quindi la passo dal ferro ad ago vado a passare il filo e faccio qui il nodino per tenere le mie maglie in sospeso ritornerò vicino a queste maglie successivamente al momento le lascerò in sospeso e così vado a mettere in sospeso tutte le maglie per il primo davanti per la manica tutte le maglie a legaccio saranno messe in sospeso fino alla maglia diritta e anche il secondo davanti e la seconda manica sul ferro dovranno rimanere soltanto le maglie della schiena ho messo tutte le maglie in sospeso il primo davanti e le maniche entrambe maniche e il secondo davanti ho fatto anche i nodi per non perdere le mie maglie quindi tutte le maglie che sono rimaste sul ferro sono soltanto le maglie del dietro qui vado a lavorare tutte queste maglie prendendo il gomitolo nuovo il gomitolo che è avanzato è rimasto in sospeso insieme al davanti per non fare ulteriori nodi quindi vado a prendere un gomitolo nuovo e vado a lavorare tutte le mie maglie che si trovano sul ferro attualmente quindi soltanto le maglie della schiena andrò a realizzare circa 6-8 ferri in altezza dipende un pochino da che taglia state realizzando fino alla taglia di 9 mesi possiamo accontentarci di 6 ferri altrimenti se la taglia è più grande bisogna realizzare anche 8 ferri per ottenere circa 2 cm di altezza quindi vado a lavorare le maglie a maglia rasata a diritta al diritto sul diritto e al rovescio sul rovescio per 6-8 ferri in altezza ho fatto i 6 ferri e qui vado a lasciare di nuovo le mie maglie in sospeso anche del dietro quindi passo tutte le maglie dal ferro su un ago e le lascio in sospeso questo è per chi chi non sa lavorare con i ferri circolari e desidera realizzare il lavoro con il classico ferro lineare che senza alcun problema potete realizzare anche con il ferro lineare mettiamo le maglie in sospeso andiamo a realizzare prima le maniche e quindi non avremo nessuna difficoltà invece se lavorate con il ferro circolare potete continuare la lavorazione lavorando il davanti e dietro tutto insieme e soltanto dopo riprenderete le maniche insomma come uno preferisce quindi andiamo a mettere in sospeso le maglie del dietro fatto ciò vado a riprendere le maglie di una delle maniche il filo vicino al pezzo di dietro possiamo andare a tagliare adesso lo riprenderemo con le maniche prendo il mio ferro qui prestate attenzione il lavoro dovremo andare a rincominciare dal diritto del lavoro non dal rovescio quindi il ferro va inserito da sinistra verso destra attraverso le nostre maglie una delle maniche qualsiasi io attualmente mi trovo la manica qui ho la fine e quindi vado a inserire le mie maglie attraverso il ferro al contrario il ferro attraverso le maglie ecco posso tagliare il filo di scarto e lo vado a eliminare qui vado a riprendere la lavorazione della manica andiamo a riprendere innanzitutto anche le maglie del dietro che abbiamo creato alzatina del dietro eccola qui qui andiamo a riprendere le nostre maglie quindi con il ferro destro vado a fare un cappietto con il filato che è appena tagliato quindi il filo all'inizio vado a fare un cappietto e lo vado a mettere su sul ferro fatto ciò vado a fare ancora un aumento il filo incrociato su se stesso e lo vado a mettere sul ferro dopodiché vado a riprendere le vivagno vicino alla alle maglie di vivagno qui del nostro dietro l'alzatina del dietro li vado a riprendere una ad una magari se la manica vedete che è un pochino larga andate a saltare qualche maglia quindi se io ho realizzato sei ferri in altezza dovrei ottenere sei maglie di vivagno invece ne andrò a prendere cinque maglie una vivagno la salto quindi vado a lavorare tutte le maglie che mi trovo sul ferro a diritto per ottenere il punto legaccio finché non arrivo fino alla fine di tutto il ferro arrivata alla fine del ferro lavoro anche l'ultima maglia a diritto e vado a fare due maglie di aumento una maglia il filo incrociato su se stesso la seconda maglia quindi per creare un leggero scalfo manica e vado a lavorare adesso tutte le maglie che mi trovo attualmente sul ferro sono le maglie della prima manica vado a lavorare per tutta la lunghezza necessaria lavorandoli a legaccio quindi ogni ferro tutte le maglie sempre e solo a diritto ho lavorato la manica dopo gli scalfi qui dopo che abbiamo ripreso la manica per 14 cm adesso vado a fare qualche diminuzione per ristringere un pochino sul polso e farò in modo seguente vado a lavorare le prime 4 maglie e la quinta maglia sarà una diminuzione quindi vado a lavorare 1 2 3 e 4 la quinta maglia andiamo attraverso le due maglie la prima e la seconda maglia del ferro nel lavoro una sola maglia a diritto quindi una diminuzione di nuovo 4 maglie singole e una diminuzione 2 maglie insieme e lavorate a diritto faccio ciò per tutto il ferro soltanto in questo ferro dopo di che proseguo ancora per 6 ferri in altezza dopo aver diminuito ho lavorato ancora per 6 ferri adesso devo andare a chiudere le maglie mi trovo sul rovescio di lavoro e chiudo le maglie in questo modo entro attraverso la prima la seconda maglia del ferro nel lavoro una maglia insieme a diritto rimetto la maglia nuovamente sul ferro sinistro entra attraverso le due maglie nel lavoro una sola maglia a diritto prestate attenzione che le maglie li vado a prendere da dietro e non da davanti al lavoro e li prendo da destra verso a sinistra con la punta del ferro quindi vado a chiudere tutte le maglie fino all'ultima dopodiché il filo lo potete lasciare un po' più lungo per poter eseguire la cucitura con stesso filo ed evitare altri nodi la cucitura la possiamo farla immediatamente così a termine delle entrambe maniche dovremmo soltanto lavorare il corpino e non dobbiamo eseguire più nessuna cucitura lavoro la manica tutta fino alla fine chiudo le maglie ecco questa è la chiusura maglia abbiamo chiuso tutte le maglie la prima manica terminata e qui andiamo a riprendere la seconda manica avendo il lavoro rivolto verso di noi a diritto andiamo a riprendere le maglie da sinistra verso destra soprattutto se state lavorando con il ferro lungo che è il ferro circolare possiamo passare la punta da un ferro all'altro invece con il ferro lungo no quindi bisogna prendere le maglie da sinistra per avere un verso giusto del primo ferro che poi andremo a realizzare andiamo a riprendere tutte le maglie della manica riprese le maglie abbiamo la punta di qua sul diritto del lavoro sul ferro destro andiamo a fare un cappietto più una maglia come abbiamo fatto per l'altra manica più una maglia quindi andiamo qui non abbiamo alzattina perché abbiamo il diritto il davanti del nostro lavoro quindi vado a lavorare subito tutte le maglie della manica a legaccio finché non arrivo fino alla fine di tutto il ferro l'ultima maglia della manica e qui abbiamo l'alzattina del dietro come con l'altra manica abbiamo ripreso 5 maglie così anche qui andiamo a riprendere 5 maglie di divagno 2 3 4 e 5 più 2 maglie di aumento quindi il filo incrociato su se stesso e le andiamo a mettere sul ferro 2 maglie di aumento abbiamo ottenuto stesso numero di maglie come per la prima manica e quindi andiamo a proseguire il lavoro esattamente come per la prima manica lavorando tutte le maglie a diritto per ottenere il legaccio e alla fine andremo a eseguire delle diminuzioni per restringere un pochino il polsino quindi andiamo a lavorare la seconda manica terminato terminato le entrambe maniche ho eseguito anche le cuciture su tutte e due le maniche sono già fatte le cuciture e adesso andiamo a riprendere il davanti e il dietro tutto insieme qui abbiamo il nostro filo il nostro gomitolo ancora attaccato e vado a riprendere le maglie dal lato opposto non dove ho il filo altrimenti poi troverete la punta del ferro sul lato sbagliato se state lavorando con il classico ferro lungo con il circolare invece non avete alcun problema quindi vado a riprendere tutte le maglie prima del del primo davanti che ci troviamo da questo lato dopo tutte le maglie del pezzo di dietro e il secondo davanti riprendiamo tutte e tutte le maglie ripreso tutte le maglie li abbiamo completamente tutti sul ferro abbiamo eliminato tutti i nostri fili di scarto quindi adesso riprendo la lavorazione vado come sempre a lavorare inizio e fine ferro le maglie a legaccio che sono una di vivagno più le 5 maglie di legaccio per il bordino e non dimenticate anche le asole sono realizzate a circa 4 o 5 centimetri di distanza tra un'asola e l'altra quindi quando bisogna fare le asole ce le ricordiamo e continuiamo la lavorazione della maglietta lavoro tutte le maglie della prima metà del davanti e arriviamo fino allo scalfo manica qui abbiamo lo scalfo manica qui vado a riprendere delle maglie vado a riprendere almeno 4 o anche 5 maglie riprendendo proprio qui le maglie dello scalfo sono 3 non riesco a prenderla magari se abbiamo bisogno di un uncinetto ci aiutiamo con l'uncinetto eccola 4 e ancora una 5 quindi ripreso le maglie qui continuo a lavorare le maglie del dietro finché non arrivo al secondo scalfo siamo al secondo scalfo e anche qui vado a riprendere 5 maglie come ho ripreso sotto al primo scalfo quindi 1 2 3 4 e 5 proseguo lavorando le maglie del seconda metà del davanti da adesso in poi ormai ho tutte le maglie necessarie sul ferro quindi proseguo in lunghezza per centimetri necessari lavorando tutte le maglie a maglia rasata diritto sul diritto del lavoro a rovescio sul rovescio del lavoro il bordino viene eseguito sempre a legaccio il bordino all'inizio e alla fine della maglietta per l'apertura ricordiamo come sempre le asole e il lavivagno inizio ferro non viene mai lavorata la passiamo da un ferro all'altro senza lavorarla fine ferro sempre e solo a rovescio andiamo ad eseguire tutta altezza ho proseguito lavorando il corpo a maglia rasata diritta con il bordino a legaccio dallo scalfo manica abbiamo 15 cm dopodiché ho realizzato ancora un paio di centimetri di legaccio adesso posso andare a chiudere tutte le maglie come altezza ci siamo quindi vado a chiudere tutte le maglie in modo seguente esattamente come abbiamo chiuso le maglie anche sulle maniche quindi vado attraverso la prima e la seconda maglia del ferro lavoro una sola maglia a diritto la maglia appena lavorata la rimetto sul ferro sinistro quindi di nuovo due maglie insieme a diritto e proseguo così fino alla fine finché non avrò terminato tutte le maglie fatto ciò andrò a cucire i bottoncini ecco andrò a cucire dei bottoncini come il colore sono identici e con questo abbiamo terminato adesso il tutorial si conclude un bacione grande a tutti e ci vediamo al prossimo tutorial